ciao oggi prepariamo dei buonissimi panini super freschi con le verdure da portare in spiaggia se volete vedere come ho realizzato questi golosissimi panini continuate a seguire il video ciao ciao e ora la parte migliore delle video ricette l'assaggio vi saluto ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate tanti mi piace e condividetelo con i vostri amici io continuo a gustarvi questo buonissimo panino in questo meraviglioso panorama della Sardegna ciao ciao